Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake veloce e cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro, cioccolato fondente fuso, cacao amaro, latte, sale, uova, vanillina, lievito per dolci e gocce di cioccolato bianco. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Rieuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro che deve essere morbido, il cioccolato fondente fuso, il latte, la farina di tipo 00, le uova, il cacao amaro, la vanillina, il lievito e il pizzico di sale. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. aggiungiamo le gocce di cioccolato bianco amalgamiamo con la spatola il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da plum cake cospargere con le gocce di cioccolato bianco cuocere in forno per il riscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake veloce, cioccolato fondente. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie